Ho riflettuto qualche giorno, ho subito pensato che io dovevo necessariamente avvertire l'autorità giudiziaria. Sapevo dalla lettura delle cronache giornalistiche che la procura di Perugia e il dottor Cantone stavano conducendo un'indagine nella quale erano state anche utilizzate delle dichiarazioni dell'avvocato Amara. L'ho contattato, ho chiesto io di essere sentito, di essere sentito avverbale, formalmente. In quella occasione ho appreso, soltanto in quella occasione, che altri verbali e più verbali erano stati mandati ad alcuni giornalisti. Successivamente, quando questi verbali hanno cominciato ad essere pubblicati, seppur non nella parte che riguardava il consigliere Ardita da alcuni giornali, ho pensato che fosse venuto il momento di uscire fuori da quello che era ormai un passaparola istituzionale non formalizzato e prendere la parola al plenum per spiegare quello che stava accadendo. Perché sono convinto, questo l'ho anche detto al procuratore Cantone, che dietro ci potrebbe essere anche un tentativo di condizionare l'attività di un organo costituzionale come il Consiglio Superiore della Magistratura. Questo è un punto molto importante, qui c'è un corvo, chiamiamolo così. Lei intanto ha un'idea di chi possa essere? Qualcuno che arriva da dentro il CSM o all'esterno? Si è fatto un'idea? Lei in fondo è un investigatore, no? È un PM, ma insomma è un PM che ha fatto investigazioni sui crimini. La mia ipotesi, l'ipotesi che abbiamo anche discusso con il Consigliere Ardita, rimane un'ipotesi. Io spero, auspico fortemente che l'autorità giudiziaria vada, voglia andare a fondo e venga messa nelle condizioni attraverso le testimonianze di coloro i quali sono a conoscenza di qualcosa, di andare a fondo, perché questa è una storia che in ogni caso è di una gravità inaudita. Mi lasci dire che sarebbe assolutamente e ovviamente grave se questa loggia esistesse e operasse, sarebbe ugualmente, se non ancora più grave, se invece questa loggia fosse stata inventata e fossero stati coinvolti, come è stato sicuramente coinvolto calunnosamente il dottor Sebastiano Ardita, esponenti dello Stato e delle istituzioni. Si deve andare a fondo, non si può accettare che questa storia... Cosa volevano colpire, secondo lei? Lei e Ardita in particolare c'era un provvedimento, una misura, una riforma su cui state lavorando? Guardi, intanto volevano colpire il dottor Ardita, perché è stato sempre irreprensibile e rigoroso, ha contrastato questi poteri occulti. Con il dottor Ardita noi ci stiamo impegnando con grande forza, perché siamo consapevoli che alcuni mali si sono diffusi come un cancro all'interno della magistratura. Il carrierismo, la degenerazione correntizia, il collateralismo politico. Noi stiamo cercando di fare tutto quello che possiamo fare per contrastare questa deriva, questo pericolo all'interno della magistratura e soprattutto per difendere i colleghi, quelli che sono veramente liberi, veramente coraggiosi e che hanno il coraggio soprattutto di affrontare questi argomenti. Adesso, dottor Di Matteo,